Questo è il video che Gianfranco Vitale ha dedicato nel giorno del suo compleanno al figlio Gabriele. Gabriele è una persona, non un autistico, o se preferisci è una persona autistica. Gabriele, 39 anni, è ricoverato in una struttura residenziale per disabili. Da febbraio al 24 giugno, papà Gianfranco ha visto Gabriele solo in videochiamata e ancora oggi fatica tanto per poter stare con il figlio. Gli è permesso di farlo soltanto per mezz'ora alla settimana. E' interdetta la possibilità per queste persone di rientrare a casa, salvo una condizione che io chiamo ricattatoria, cioè al rientro delle persone nella struttura, forse solo anche per un giorno, le stesse persone dovrebbero essere sottoposte a doppio tampone ad una quarantena di 15 giorni. che diventerebbero ancora più sole. Gianfranco si appella all'istituzione affinché le cose cambino. La responsabilità finale viene rimandata alle direzioni sanitarie delle singole strutture. È molto difficile che le direzioni sanitarie delle singole strutture si assumono una responsabilità che non compete loro.